Sarà il mister a decidere, mi sono allenato questi quattro mesi bene anche quando la squadra era fuori, quindi sono a disposizione, sinceramente mi è mancato un po' tutto, come ho già detto specialmente stare con la squadra, con i compagni, però finalmente è finita, ora guardiamo avanti. Dopo, diciamo, tra virgolette, tante delusioni, forse ancora c'è sta a noi, secondo me, per far riaccendere l'entusiasmo, perché un po' si è incubita la cosa, l'ambiente si è un po' incuperoso, secondo me se noi riuscissimo a dare una buona impressione alla gente sono sicuro che si riavvicinerà. È un'emozione fortissima, a prescindere se gioco o non gioco, quello non è un problema, però entrare nel Ciro Vigorito, dove ho fatto la maggior parte delle presenze della mia carriera lì dentro, ti dà grande emozione. No, perché la fascia di capitano non è solo indossarla, così sarebbe facile, invece per chi la indossa deve avere la capacità di spronare la squadra e credo che Fabio, che Lucioni, Melara, lo stesso Mazzeo, Marotta riescano a stimolare la squadra.